Furti in aumento, ci sentiamo insicuri, lo affermano i piacentini interpellati sull'andamento dei reati. Anche droga e alcol in aumento, gli imprenditori della notte non lasciateci soli. Non paga e spacca le sedie. Un sedicenne ubriaco ha dato un'escandescenza in un locale di Via Colombo, rifiutandosi di pagare il conto e rompendo gli arredi. Bastione Sansisto, sospette intrusioni, grosso varco nella recensione, cancello danneggiato, lente farnese, già in passato si sono verificate, occupazioni abusive. Armani e i pugni in tasca, lo stilista piacentino ha partecipato al restauro del film del regista Marco Bellocchio, che verrà presentato domani al Festival di Locarno dopo 50 anni dagli esordi e sabato al Bobbio Film Festival. Pro Piacenza da domani la Coppa, alle 18 al Garili l'esordio con i Brienzoli dell'Arenate, spintoni durante l'amichevole del Piacenza San Colombano.